la gamba bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo con un certo simone fin adesso è il mio canale e tanto questo vuole fregarsi tutto l'ora e siamo sulle bedwars una serie che ho appena cominciato ad affare arriviamo almeno 15 like per il prossimo episodio di questa serie intanto direi di farci dei cubetti due di oro mi è capitato due di oro e due di carro mi basta uno di ferro grazie spada l'armatura e anche la mela d'oro se ho altri due di oro se ho altri due di oro mi faccio la faccio l'arco bravissimo stanno arrivando stanno andando lo spawn a letto vai 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 attacca attacca vai presto ma l'hanno guardato si si l'hanno guardato vai 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 attacca attacca uccidilo e io non c'ho neanche i blocchi aiuto sono al centro sono al centro stanno arrivando presto sono qua ecco arrivato arrivo assassin creed ragazzi mi hai salvato un soffio di vita con le mosse di assassin creed acqua di fuoco merda dai fai il ponte tu non pensare è la sopra è la sopra lo vado a uccidere sono morto sono morto con onore sono morto con onore abbiamo perso anche questa partita abbiamo perso la prima partita e adesso andremo per la seconda allora facciamo una cosa ma appena appena anche un'attività prima ora appena abbiamo nel bronzo faccio mille facciamo il potente molto per loro ok si è nella blu sia nella verde siamo 4.4 più 1.1 poverino poverino di strada mi sa che vinciamo noi dopo non lo so no no è quasi morto è dato via rosso acquittato ci sono i blocchi qua ehi da qua che spavano non è di sotto ce ne ho 7 aspetta 9 allora faccio controllo al giro attenzione di freccia aia mangio mell'adoro ma no stanno facendo il pont io sto farmando per farmi spendere diamante dai me ne mancano mi mancano 4 blocchi di ferro ok ok a posto 4 blocchi no scusa 4 lingotti adesso mi mancano no no li ho adesso adesso devo fare l'oro e ho fatto 20 vai me ne mancano 5 d'oro mi stanno facendo l'armatura manca un d'oro vai spada in diamante ne ho 12 tieni tieni ti do la spada in ferro mi vado a fare quella in diamante spada in diamante 3 2 1 c'è c'è eccola qua la base il centro l'ho scoperto no no lo sto colpendo io colpito sono troppo bravo con l'arco ma stavamo cercando di arrivare da qua con i ponti eh li ho li ho fatti indietreggiare quindi blu eh li ho fatti indietreggiare li ho fatti indietreggiare l'ho fatti indietreggiare oh 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 forse ho capito dove sono stanno facendo un ponte per la nostra isola guarda mi sto sto diventando ultra power oh sono tutti qua sono tutti qua vieni vieni sono tutti alla base stanno facendo tutti il ponte per venire fin qua vai in altri due me l'adoro per te vieni presto hanno paura non l'ho preso eh ottimo giusto giusto posso farmi l'ultimo pezzo di armatura eh viva vediamo posso farmi l'arco in con tutte e tre le cose punch 1 fiamma 1 infinity 1 vai come ho fatto a non colpirlo l'ho presissimo eccolo qua giù vai giù vai giù si stiamo andando a contraattaccare eh io l'ho buttato giù adesso vado a distruggergli il letto a questi eh stiamo andando da noi eh vado anch'io però vado da sopra io andate andate io sto uccidendo questo eh l'ho preso eh buttato giù e vai sono troppo forte troppo forte vai che ho preso qualcuno eh sono caduto io eh non mi freccio per me vieni dammi dammi sono 4 di basta no 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 credo di sì vieni vieni vi salvi anche te eh non mi interio beh vieni vieni lo stesso fatti una spada fai io avanti indietro oh quante frecce mi stanno tirando merda l'ho uccisa con colpo l'ho colpito ucciso vai me la d'oro ora io me la doro merda merda vai 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 distruggi il letto io li tengo a bada grande grande vedete penso che sono un millimetro uccito io li uccito io uno si è buttato ucciso yeeeh io c'è una vasata yeeeh comunque ragazzi questa bedwars è tutto spero che video vi sia piaciuto aspetta ho sbagliato ho sbagliato schermata spero che il video sia piaciuto con simone233 prossimamente ne faremo altri forse dopo perché intanto adesso stop il video ne facciamo un altro cazzo bene eeeh spero che video vi sia piaciuto come è stato lasciate un commento mi piace visitate anche la pagina facebook vi lascio il link in descrizione se non siete iscritti iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video good luck